Buon Natale! Buon Natale a tutti! Si accendono le luci! Le luci accesse sono il modo più efficace per mandare i migliori auguri di un sereno Natale alle padermitane e ai padermitani, un Natale sereno, un Natale di gioia, un Natale che noi padermitani meritiamo e cerchiamo ogni giorno di meritarci in un clima di serenità, di fratellanza, di misericordia, per usare le espressioni di Papa Francesco in occasione del Giubileo della Misericordia. Auguri, Buon Natale!